buongiorno a tutti in questo ultimo diciamo video di lezione sul css a cui seguirà poi un esercizio un po più pratico guardiamo come possiamo utilizzare tutto quello che abbiamo visto nei video precedenti per provare a strutturare in maniera furba diciamo così un layout di una pagina html e partiamo da un layout di pagina diciamo in maniera classica strutturato con i flots e poi con i grid e quindi possibile utilizzare flot che abbiamo visto l'altra volta nel video precedente per organizzare il layout appunto di una pagina web quindi se noi abbiamo una pagina web una pagina html con questi quattro componenti un banner una sidebar di sinistra un main content e una right sidebar è possibile utilizzare appunto i flot applicandoli a questi box per ottenere un layout a due o tre colonne come questo visualizzato qui come beh partiamo sempre da il nostro layout in cui abbiamo un banner un contenuto e una sidebar immaginiamo in quest'ordine quindi senza ancora aver applicato nessuno stile nessun nessuna nessun flot particolare quindi vogliamo applicare la proprietà flot per far sì che l'algoritmo di di layout del browser e ci visualizzi la pagina web in questo modo quindi col banner che rimane sopra tutto schermo la sidebar questa 3 che viene messa a sinistra e il contenuto principale che occupa tutto lo spazio rimanente a destra e per ragioni di accessibilità vedete che questo banner questo main content questo sidebar sono messi in quest'ordine quindi con la sidebar dopo il contenuto principale questo perché perché per ragione di accessibilità perché se voi siete per esempio ciechi e utilizzate uno screen reader per navigare il web non ha senso lo screen reader legge tipicamente dall'inizio della pagina fino in fondo in maniera lineare quindi leggerà il banner e poi leggerà il contenuto principale della pagina e infine dopo il contenuto leggerà la sidebar se ne avessimo messa la sidebar prima del contenuto principale in questo in questo layout da trasformare col flott avremmo fatto sì che uno screen reader quindi una persona per esempio cieca avrebbe letto avrebbe sentito la riproduzione del nostro banner della nostra magari navigazione principale e poi di tutti i link della nostra sidebar di tutte le pagine del sito magari e poi solo a quel punto magari a metà pagina diciamo metà lettura e arrivare al contenuto principale della pagina quindi quello che davvero gli interessava quindi ecco perché qui c'è questa struttura in questo ordine che poi però viene renderizzato come layout in quest'altro modo come otteniamo questo layout beh questo layout lo otteniamo mettendo questa sidebar come float left in questo modo quindi la sidebar che era l'ultima la possiamo mettere come float left il mail content lo possiamo mettere come float right e se avessimo un footer potremmo utilizzare quindi volessimo stoppare questo contenuto da due colonne ritornare a colonna singola come capitava per l'header per questo banner qui quindi se avessimo un banner volessimo avere un banner un'area grossa come tutta la pagina qui sotto potremmo in quest'altra barra utilizzare questo clear boff che abbiamo visto mettendo un contenuto con float left un contenuto con float right automaticamente se questi due contenuti non sono troppo grandi ovviamente non si sovrappongono per definizione otteniamo questo virtual gutter quindi una spaziatura virtuale e in un certo senso gratuita che ci viene fornita che ci separa la parte sinistra dalla parte destra e questo è un esempio su come farlo vedete impostiamo in questo caso una grandezza del contenuto di 520 pixel e lo mettiamo a destra per la parte di navigazione 180 pixel e lo mettiamo a sinistra è il footer clear boff dopodiché possiamo per esempio aggiungere alcune un po di padding quindi quel diciamo quel margine interno tra il contenuto e il bordo del nostro box della nostra scatola per esempio di 20 pixel sopra e sotto e per gli elementi della navigazione di destra e sinistra di 20 pixel in modo che siano non attaccati ai bordi dell'area che lo contengono se volessimo ottenere un layout di tre colonne potremmo fare la stessa cosa quindi la main navigation come float left e all'interno del content che era già float right avere altri due box uno rispettivamente con float left e uno rispettivamente con float right questo perché vi ricordo float si applica al contenitore quindi questo float left è un left rispetto al contenitore che contiene questo blocco noi abbiamo sempre visto fino a questo punto vedete delle profondità e delle dimensioni del dimensionamento questo questa larghezza questo padding in pixel quindi in maniera assoluta quello che che questo è va bene e diciamo è un approccio molto molto classico e definisce esattamente quanti pixel occuperanno quanti pixel saranno di bordo di distanza eccetera gli elementi nella pagina ora se noi questo lo immaginiamo su diversi monitor con risoluzioni diversi o se immaginiamo che questo sito debba essere visibile su un monitor magari da 24 pollici e anche uno da 13 pollici e anche quindi con risoluzioni magari diverse e quindi magari 4k e 1024 psd 68 e poi su un mobile quindi che ha risoluzione ancora più piccola e ha un viewport un'area dello schermo anche di una forma diversa rispetto tipicamente se vista verticalmente rispetto al monitor questo dimensionamento assoluto in pixel ha dei problemi perché se noi avessimo per esempio un monitor grosso come fosse uno smartphone così ovviamente quindi se noi avessimo uno smartphone il cui monitor è in pixel diciamo questo equivalente ovviamente noi avremmo dei pezzi che rimangono fuori e dovremmo scrollare orizzontalmente per vedere l'intero sito questo ovviamente è un problema se pensiamo appunto a diversi monitor diverse risoluzioni eccetera ma ovviamente ci ha anche in certo senso ci garantisce che la pagina appaia esattamente proporzionata come vogliamo noi quell'elemento è 300 pixel e non lo è e non un pixel di più non un pixel di meno quell'immagine è 100 pixel e non è più grossa per esempio magari perché più grossa sgranerebbe o più piccola non sarebbe visibile ma per quanto riguarda la profondità della pagina è anche possibile utilizzare un dimensionamento relativo in percentuale per esempio che appunto sia capace di adattarsi alla dimensione dello schermo quindi questo schermo è 100% di profondità di larghezza e se questo schermo è 100% è così su un desktop se noi lo vedessimo su uno smartphone come nel nostro caso di prima avremo sempre questo componente che utilizza il 64% immaginiamo che sia questo il 64% della pagina quindi avremo dei componenti questo è il 31 avremo dei componenti che si adattano automaticamente alla grandezza della pagina sia verso il grande diciamo sia verso lo stretto come potrebbe essere uno smartphone quindi quello che tipicamente si fa oggigiorno è soprattutto per abilitare questa modalità responsive e utilizzare quando possibile una modalità di impostazione della grandezza della pagina fluida quindi col percentuale o con EM o quant'altro oltre al float CSS3 in aggiunta al float che è disponibile da ben prima di CSS3 CSS3 ha aggiunto un nuovo layout multicolonna quindi un meccanismo delle proprietà per appunto ottenere un layout su multicolonna semplicemente con delle proprietà quindi column count che dice quante colonne ci sono column gap qual è lo spazio tra le colonne column width qual è la profondità delle colonne la grandezza delle colonne e così via quindi proprietà semplici che ci permettono di prendere qualcosa all'interno di un box e dividerlo su più colonne CSS3 ha anche aggiunto la possibilità di creare delle griglie in maniera nativa fornita da CSS quindi senza dover usare delle tabelle o senza dover cercare di usare dei float vi ho detto quando abbiamo parlato del visual design che la maggior parte dei siti sono strutturati a griglia allora se noi guardiamo questo come esempio voi vedete che questo è in realtà strutturato in una griglia in cui questo mikizushi occupa due celle che vengono chiamate A questo occupa una cella, questo ne occupa un'altra questo occupa di nuovo due celle però è tutto molto comunque allineato il contenuto sta o in una cella o in due celle o eventualmente potrebbe stare anche in tre celle o in quattro celle però tutto è divisibile per celle quindi è possibile adesso in CSS3 definire una griglia quindi non solo manualmente in cui il contenuto può appunto stare in una cella stare in due celle, sforare in una terza cella e così via o addirittura avere delle celle vuote e ci sono vari modi per definire una cella per definire una griglia da quello manuale alle griglie esplicita che è appunto la griglia esplicita da una novità di CSS3 e permette di definire delle colonne una griglia in termini di colonne e in termini di righe quindi permette per esempio di definire questo layout classico in cui abbiamo un header abbiamo un menu abbiamo un contenuto abbiamo un'eventuale terza colonna a destra e un footer per esempio definito con questa porzione di HTML5 e noi possiamo definire questo come se fosse una tabella di tre righe e tre colonne come lo facciamo? lo facciamo definendo in CSS un display grid quindi non display block non display in line ma una nuova tipologia di display che in questo caso è grid in cui definiamo quante colonne ci sono e qual è la loro grandezza quindi vedete che per esempio la section quindi tutta la parte la parte più grande avrà quindi la section quindi tutto quello che contiene questa questa immagine l'header la navigazione l'article la side e il footer questa section sarà divisa in tre colonne una grossa 150 pixel una grossa 200 pixel l'ultima in fondo e quella in mezzo un fr che vuol dire occupa praticamente tutto lo spazio rimanente tra queste 150 pixel e queste 200 pixel ottenendo quindi una via di mezzo tra un layout fluido totalmente fluido e un layout invece totalmente assoluto in quanto il primo e l'ultima la prima e l'ultima colonna sono fisse a questa dimensione e quella centrale invece si adatta la stessa cosa la si può fare per le righe tre righe la prima da 50 pixel la seconda di nuovo che si adatta allo spazio che serve ed è solo questa fr è un'unità applicabile solo a questo tipo di grid non funziona con bloc o quant'altro e 50 pixel per l'ultima a quel punto all'interno di ogni elemento html possiamo definire quante colonne qual è la posizione di questo elemento quindi questo è posizionato alla posizione 1 prima riga 2 seconda colonna eccolo qui la navigazione e questo laterale sarà invece nella prima colonna ma alla riga 2 e così via quindi ci permette di posizionare in questa griglia 3x3 gli elementi dove vogliamo anche lasciando appunto delle griglie vuote delle celle vuote sulle griglie c'è molto molto da leggere molto da parlare questo è per esempio un link che vi spiega meglio vi spiega in più dettaglio come funziona questo nuovo grid layout che appunto è una novità di CSS3 prima di CSS3 prima di qualche anno fa non esisteva questo grid layout e se uno voleva una soltura a griglia doveva ingegnarsi o con una tabella o con the float o giocando con dei vari blocchettini di tipo block giocando appunto con i loro margini padding e così via posizionamento relativo posizionamento assoluto e così via un'altra novità recente di CSS3 che è molto molto utile per il layout è il concetto di flexbox la flexbox è un'alternativa ai float per definire l'apparenza generale di una pagina qual è la differenza con i float la differenza con i float è prima di tutto concettuale i float sono nati per posizionare elementi all'interno di un layout tipo magazine quindi con appunto una barra superiore una parte inferiore un contenuto con un appunto un elemento in float e altri contenuti a lato e seppur ci permettono di posizionare appunto questi box e queste scatole in maniera orizzontale sono comunque loro relativi al contenitore che è in cui lo definiscono e appunto stati pensati per essere applicati sui singoli elementi la flexbox invece ci dà molto più controllo non solo sulla posizione orizzontale degli elementi ma appunto sul layout perché è pensata da zero per gestire l'intera struttura della pagina quindi non solo la posizionamento orizzontale ma anche la direzione l'ordine la grandezza dei box la grandezza di queste scatole quindi appunto se li vogliamo allineati tutti a sinistra o tutti a destra se li vogliamo orizzontali o li vogliamo un contenitore flex verticale se li vogliamo ben spaziati e vogliamo il primo e il secondo e il terzo vogliamo un ordine diverso se il primo deve avere una dimensione più grande degli altri due quindi il doppio degli altri due che seguono oppure devono essere ben distribuiti all'interno della pagina come grandezza quindi ognuno deve avere un terzo della grandezza della pagina e così via e come funziona il flex? il flexbox usa due tipi di contenitori due tipi di box solo due tipi il container e gli item il container il flex container è un container è un box che avrà un display uguale a flex e è un contenitore per raggruppare un insieme di flex item e ogni elemento html che è un figlio diretto quindi il primo figlio il figlio di primo livello diciamo di un container flex è a sua volta un flex item automaticamente quindi due oggetti il container e gli item che sono figli diretti del container cosa possiamo fare con questo flex container con questi flex item possiamo per esempio definire un allineamento orizzontale quindi se il nostro flex container che sarà identificato da questo display flex possiamo dirgli che vogliamo gli elementi flex start quindi tutti gli item saranno verso l'inizio saranno allineati a partire dall'inizio del container saranno centrati o saranno allineati verso la fine del container come attraverso la proprietà justify content che viene applicata al container quindi la proprietà justify content avrà varie opzioni center flex start flex end space around space between che regola come questi elementi come gli item all'interno del container sono posizionati allineati possiamo anche sempre attraverso justify content vedere come gli elementi saranno sono distribuiti attraverso la proprietà space around il valore space around space between vedete space around mantiene lo stesso spazio tra gli elementi ma anche prima e dopo gli elementi space between invece separa si assicura che gli elementi abbiano lo stesso spazio l'uno tra l'altro ma ignora lo spazio all'inizio e alla fine del box e quindi saranno allineati verso diciamo l'inizio e la fine del box orizzontalmente e questo è un esempio questo è un esempio di menu che è appunto il cui container è di tipo flex e ha una disponibilità di 900 e il contenuto è di tipo space around gli item sono di tipo space around flex container ci permettono anche di raggruppare gli elementi come utilizzando un div e applicando a quel div il concetto di flex item perché ricordate che il flex container è appunto un container e i flex item sono i figli diretti di quel container quindi se noi volessimo raggruppare questi due insieme l'unico modo che abbiamo è trasformarli in un unico flex item per esempio con un div e poi posizionare questi con il posizionamento relativo col float con quello che vogliamo o con il posizionamento con quello che vogliamo all'interno di questo div proprio perché i flex container sanno solo come posizionare i loro figli diretti non i figli dei figli flex container può anche definire l'orientamento verticale dei loro oggetti con questa proprietà align item quindi in maniera centrata o un pochino verso il basso o un pochino verso l'alto align item è il duale di justify content mentre justify content ci permette di allineare distribuire il contenuto i flex item orizzontalmente align items ci permette di distribuirli invece verticalmente con sempre con flex abbiamo anche una proprietà che si chiama flex wrap che ci permette di creare una griglia e di 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 sapere cosa succede agli item quando questi item arrivano alla dimensione massima del loro box o la dimensione massima del 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 browser se il box è grosso come tutta la viewport del browser se quindi questi item hanno un no wrap cioè ne vediamo i primi tre e gli altri due sono fuori dal box e quindi magari dovremmo scrollare per vedere questi ultimi due oppure se mandarli a capo appena la dimensione del box viene raggiunta la dimensione massima del box quindi i primi tre invece di continuare gli altri due andranno a capo e non hanno una riga con questa proprietà flex wrap inoltre possiamo anche definire la direzione di questo flex quindi con tutto quello che abbiamo già visto che di default è orizzontalmente ma possiamo anche invertirla in maniera verticalmente quindi abbiamo una proprietà flex direction che ha un valore row o un valore column per dire che i flex item devono essere allineati in maniera diciamo diretti la direzione di questo flex container è orizzontale o è verticale quindi con flex direction row tutto funziona come abbiamo visto finora justify content funziona orizzontalmente e align items funziona verticalmente con flex direction column è esattamente il contrario justify content è invece verticale e align items serve per distribuire gli elementi per allineare gli elementi in maniera orizzontale flex items sono a loro volta flessibili nel senso che possono ridursi espandersi essere uno il doppio dell'altro eccetera e questo si può fare con una proprietà che si chiama flex che appunto definisce la profondità il comportamento in larghezza diciamo degli item individuali dei flex item in un container ci sono appunto tre proprietà principali il no flex quindi ognuno rimane disposto come sarebbe relativamente l'equal flex quindi ognuno ha una grandezza uguale all'altra massima oppure un equal flex in cui diciamo che per esempio un elemento e vi faccio vedere come nelle slide successive è per esempio il grosso il doppio degli altri due e gli altri due ovviamente si adattano per stare nell'intera riga questo è un esempio in cui diciamo che gli item quindi abbiamo un container che abbiamo chiamato footer che è di tipo flex di tipo space between e poi abbiamo degli item tre item in cui il primo item e il secondo item hanno un flex uguale a uno quindi occupano un'unità una porzione dello spazio il secondo item è di nuovo uguale a uno il terzo item invece è un flex uguale a due questo dice che ovviamente qui invece di essere considerato un terzo un terzo un terzo vengono considerati un quarto un quarto due quarti questo è un sommario delle proprietà flexbox di CSS quindi display flex crea un flex container justify content definisce l'allenamento orizzontale degli item quindi figli diretti del container align items definisce l'orientamento invece verticale se flex direction è raw se si vuole cambiare la flex direction in column questi due cambiano diciamo la rappresentazione semantica questo diventa verticale questo diventa orizzontale esiste poi anche un row reverse un column reverse per cambiare l'ordine dal primo all'ultimo viceversa degli elementi degli item order una proprietà per personalizzare l'ordinamento degli elementi individuali align self per allineare verticalmente gli item individuali e invece flex per creare dei flex item flessibili che possono adattarsi diversamente diventare più grandi più piccoli come abbiamo visto nella slide precedente qui ci sono un po' di reference per il flexbox che è abbastanza nuovo in CSS e sta prendendo sempre più piede perché ci permette di fare molte cose che prima si potevano fare con estrema difficoltà come per esempio allineare al centro vari elementi o disporre bene certi elementi di layout il flex ci viene molto utile tra le altre cose anche per definire dei layout che sono responsive quindi parliamo di design responsible quindi di un sito web che si visualizzi bene diciamo in maniera appropriata sia su monitor molto molto ampi sia su monitor più piccoli come potrebbero essere quelli mobile questo responsive design questo approccio responsive è un approccio per appunto eliminare la distinzione tra crea un sito che sia mobile friendly e crea un sito che sia totalmente desktop friendly e quindi avere due versioni tre versioni quattro versioni del sito diverse ma avere un sito solo che in maniera intelligente in maniera automatica sia capace di adattarsi e di capire se è visualizzato su un browser in uno schermo grande o se è visualizzato in un browser in uno schermo piccolo e quindi adattarsi automaticamente senza richiedere appunto versioni diverse del sito per dispositivi diversi come si fa un sito responsive un sito responsive si fa attraverso una funzionalità CSS che si chiamano media query e sono un modo per applicare le stesse regole CSS che abbiamo visto finora in maniera condizionale cosa vuol dire condizionale? vuol dire che una media query ricorda quello che faremmo con per esempio un if quindi se in un certo senso è come se dicessimo se la dimensione dello schermo è quella di un computer desktop allora applica queste regole se invece la dimensione dello schermo è quella di un mobile allora applica queste altre regole altrimenti applica tutto o diciamo se invece non importa quale sia la dimensione dello schermo applica queste altre regole quindi un modo per applicare della logica diciamo così appunto all'algoritmo che genera il layout di un sito web le media query si scrivono in questo modo quindi partono con chioccio la media che è un announcement del fatto che quello che verrà dopo è appunto una media query dopodiché nel parentesi tonda c'è qual è la condizione su cui questa media query si applica quindi in quale circostanza questa media query deve essere attivata deve funzionare in questo caso dice quando la grandezza minima del browser è 900 pixel cosa faccio quando la grandezza minima dello schermo è 900 pixel quindi quando è 900 950 1000 e quant'altro applico il colore rosso a tutti gli elementi di tipo P quindi questa è una regola CSS e uno più regole CSS normali che si possono mettere in queste parentesi graffe verdi e questo ci dice quando queste regole vanno applicate quindi senza una media query e abbiamo tutta una serie di regole se ne avessimo sopra P color red P background color yellow eccetera quelle sarebbero tutte regole che si applicano indipendentemente dalla risoluzione dello schermo e dalla risoluzione pixel del browser se noi applichiamo una media query stiamo dicendo queste proprietà vanno applicate solo quando questa condizione è verificata altrimenti ignora questa proprietà quindi in questo caso applichiamo questa proprietà quando la dimensione della larghezza dello schermo è almeno 900 pixel quindi 900 pixel o più grande e le media query oltre a la minima profondità del viewport ci permettono anche per esempio di controllare l'altezza l'altezza del dispositivo quindi lo schermo vero e proprio la profondità della grandezza la larghezza del dispositivo l'orientamento quindi applicano media query solo se lo smartphone è in modalità orizzontale o in modo verticale la risoluzione e quant'altro a questo link ci sono tutta una serie di media feature sopportate e come dobbiamo costruire noi una pagina HTML che abbia un layout per un design responsive possiamo pensarla in questo modo allora noi ovviamente la costruiremo magari partendo dal texture perché avremo leader poi delle feature delle feature delle feature poi un'area di setup poi un'area di content e questo layout in modalità tablet per esempio avrà un ordinamento diverso in cui il content viene prima e poi avrà un sign up e delle feature disposte in questo modo mentre sul mobile saranno tutte una sotto l'altro mettendo di nuovo prima leader poi il contenuto poi il sign up e poi le feature notate che tipicamente quello che succede è che si passa dalla versione desktop a una versione intermedia che è quella tablet dove magari cambia qualcosa e poi la versione tablet e la versione mobile sono molto più allineate come diciamo disposizione dei blocchi in cui abbiamo il sign up come prima cosa la feature come seconda cosa l'altra feature rossa come terza e poi l'ultima feature come quarta come utilizziamo questi come facciamo a passare tra la modalità desktop per la modalità tablet e la modalità mobile e cosa mettiamo all'interno di una media query cosa mettiamo all'interno di questo min width per esempio perché 900 pixel quello che in genere si fa è si utilizza la risoluzione del dispositivo definendo the break point cioè questo CSS da qui in giù si applica questo CSS e qui c'è un break point e qui c'è un altro break point che si applica per il mobile quindi per gli smartphone tipicamente si usano dei break point tra 320 e 480 pixel quindi min width 320 max 480 per i tablet 768 1024 tutto quello che è sopra 1024 visualizza il sito come se fosse un desktop un approccio che si utilizza spesso è quello mobile first quindi prima di tutto si progetta un sito per il dispositivo più piccolo di tutti in cui volete visualizzare il sito quindi mobile e poi quindi per questi break point 320 480 per esempio e poi man mano una volta che avete ottenuto un design per questo pensate a come fare un design per il tablet e per e per un desktop e dove eventualmente applicare the break point se applicarli magari la versione tablet non avrà nessuna differenza estetica rispetto a nessuna differenza di layout rispetto a una versione tradizionale per un browser in un in un laptop per esempio perché? perché magari il vostro sito anche a una risoluzione un pochino più più piccola sarà comunque ben visibile senza nessuna particolare modifica mentre sullo smartphone sicuramente ci saranno delle modifiche da da fare questo è un esempio di questi break point vedete che qui la media qui è un po' diversa ha un elemento in più ma saltiamolo per un attimo vedete che chioccio la media poi c'è la parentesi che dice che la minima profondità del device prima la min width era del browser adesso stiamo dicendo che quella del device è 320 end max device width 480 quindi possiamo concatenarli in questo modo con un end e poi tra parentesi graph abbiamo tutto il nostro insieme di stili e le media query vedete abbiamo aggiunto questa proprietà only screen perché le media query in realtà funzionano per i vari tipi di media quindi non solo per avere un layout responsive tra oggetti con lo schermo ma anche per esempio per avere un css diverso quando voi stampate quindi print stampate con una stampante un sito web quindi voi potreste avere una media query per uno smartphone una media query per un tablet una media query per tutto il resto o su tutto su alcune proprietà su alcuni elementi di stile del vostro sito e poi avere una media query per la stampante quindi su come il sito viene stampato una volta che appunto viene mandato in stampa dal browser quindi questo only screen è perché è una media query che si applica a questa profondità solo su oggetti che hanno uno schermo potevamo anche scrivere print per appunto identificare una stampante o quant'altro quindi media è anche una proprietà un attributo abbastanza flessibile perché appunto supporta adesso potrà supportarlo in futuro se ce ne saranno altri elementi multimediali però la sintesi è sempre questa chioccio la media è un'eventuale descrizione di dove applicare questo media che è facoltativo and un'altra proprietà and un'altra proprietà and un'altra proprietà e così via dove quelli che vengono tipicamente utilizzati più spesso sono min device width max device width oppure min width e max width dato che molte pagine web sono basate su una griglia su una vista della griglia tipicamente si usa il concetto di una vista di griglia responsive che è divisa in un numero fisso di colonne per una grandezza totale del 100% e queste colonne si appunto questi elementi che stanno in queste colonne si riducono espandono muovono in base appunto alla grandezza del browser della finestra del browser quindi queste sono 12 colonne tipicamente si usa quasi sempre 12 come numero di colonne quindi queste 12 colonne questi sono 4 elementi che ne occupano 3 questi sono un elemento che ne occupa 3 e man mano che riduciamo queste si riducono di dimensioni o magari questo qui questi elementi invece di stare alla colonna 10 11 e 12 verrà messo quando c'è un certo breakpoint alla colonna 345 quindi verrà spostato per esempio qui sotto un framework per cui adesso dedicheremo un video a parte un po' di esercizio che applica questo concetto responsive applica questo concetto applica il flexbox applica il concetto di colonne e bootstrap vi dico due parole e poi passiamo appunto a un esercizio bootstrap è un framework open source css e anche javascript che permette di applicare degli stili moderni con dei componenti già fatti che si preoccupa di occuparsi di eventuali problemi di rendering tra diversi browser ha un layout quasi pronto semplificato per lo sviluppatore ed è appunto sviluppato originariamente da twitter perché bootstrap o perché utilizzare un framework css css javascript beh perché i framework ci danno che siano ben equipaggiati come bootstrap o un pochino più minimali ci danno una serie di componenti una serie di best practice una serie di struttura che è già realizzata è già fatta si può utilizzare la maggior parte dei siti odierni delle applicazioni web usa un qualche tipo di framework o un framework come bootstrap o altri framework ben equipaggiati come bootstrap come possono essere le foundation per esempio o framework più minimali che però comunque aiutano a partire e mettono a disposizione dei componenti che hanno già tutti la stessa scala la stessa palette di colori e che hanno già delle proprietà hanno già qualche tipo di animazione interazione legata al mondo javascript e quant'altro quindi ci aiutano a in generale bootstrap e altri a partire prima e a dare un aspetto più consistente e anche risolverci alcuni problemi diciamo di sviluppo per esempio tra come le cose funzionano in un browser piuttosto che in un altro o come funzionano in un browser nell'ultima versione di chrome verso la versione verso internet explorer di 5 anni fa e quindi ci permettono di semplificare di far partire in maniera più semplice più semplice il nostro sviluppo tenete in considerazione anche che il CSS3 grid e il flexible sono oggetti relativamente recenti e quindi prima un layout bisogna farlo totalmente a mano andando proprio a fare un fine tuning di vari elementi con display block la posizione relativa e float e così via quindi era anche una cosa abbastanza complicata fine tuning e tutte le volte da partire da zero i framework non ci fanno partire da zero ci danno già una struttura ci danno già la soluzione ad alcuni problemi quindi ci semplificano la vita nello sviluppo in generale ecco perché la maggior parte dei siti come vi dicevo utilizza un qualche tipo di framework che sia un framework magari fatto in casa o sia un framework ben equipaggiato come bootstrap o sia un framework più minimale come altri ma utilizzo un qualche tipo di framework proprio per evitare tutte le volte di dover partire da zero per fare il layout partire da zero per scegliere tutta la palette di colori per scegliere che i bottoni devono avere tutti magari avere il bordo un pochino arrotondato e non essere totalmente quadrati e quindi applicare lo stesso stile a tutti i bottoni tutte le volte su ogni sito diverso che si realizza noi in questo corso e nei vostri progetti finali useremo bootstrap come framework perché è un framework molto usato ben documentato e molto flessibile molto che ci dà una serie di componenti molto utili bootstrap tra l'altro utilizza flex utilizza per esempio flex utilizza modalità responsive quindi ci semplifica e ci aiuta a capire meglio come funzionano questi questi elementi due parole sulla filosofia di bootstrap bootstrap è basato su classi css tipicamente e ogni classe applica un effetto una condizione si possono ovviamente combinare classi tra di loro e ci sono anche una serie di componenti già fatti e pronti per essere utilizzati o personalizzati bootstrap inoltre è come vi dicevo responsive si pensa in modalità mobile first quindi prima di tutto come avere un sito mobile che vada bene su mobile e poi man mano che si espanda anche su altri dispositivi qui hai riportato come installare usare bootstrap come installarlo lo vedremo dopo nell'esercizio insieme a un po' di link su come partire utilizzando bootstrap quindi si può partire dal basic template oppure si può partire da un esempio guardare l'html di questo esempio incollarlo nel proprio codice e lavorarci e questo è per esempio come appare lo starter template vedete molto vuoto c'è scritto giusto hello world nel corpo e tutto il resto serve per importare il css di bootstrap e i javascript e i file javascript che servono a bootstrap dopodiché ovviamente potete personalizzare bootstrap aggiungendo il vostro stile nel led e qui poi c'è una carrellata di come funziona il sistema di layout di bootstrap ma che vedremo meglio durante l'esempio per esempio il fatto che bootstrap usa queste 12 una grid virtuale di 12 colonne e quindi ha alcune proprietà con the back point definiti extra small quindi risoluzioni profondità del browser minore di 576 pixel maggiori di 576 maggiori 700 maggiori di 900 maggiori di 1200 e così via con una serie di layout di componenti bottoni tooltip i form i campi di ricerca la barra di navigazione vari colori per i vari bottoni e così via quindi questo chiude questa parte su bootstrap prossimo video faremo un esercizio su l'utilizzo un esercizio semplice sull'utilizzo di bootstrap che vi possa permettere di partire più agevolmente con il con il laboratorio 2 di venerdì un esercizio un esercizio